Quindi, dimmi, Aaron, qual era la tua idea per la mod di oggi? Allora, vorrei una mod che, come dire, prendesse Minecraft, quello che è ora il gioco, e aggiungesse profondità, nuove possibilità, nuove cose. Beh, praticamente una mod qualsiasi. Tutte le mod fanno queste robe. Sì, ma non mi sono spiegato bene, forse. Cioè, io vorrei una mod che prendesse Minecraft Vanilla, gli oggetti, le funzionalità e tutto quanto, ma, diciamo, le deve approfondire, ok? Approfondire quanto? Cerca di stimare una quantità, wiff, più o meno così, wiff. Ma che c'entra questo buco, Giuliano? Sei proprio stupido delle volte. Intendo non in questo senso, in senso metaforico. Cioè, vorrei una maggiore immersione nel gioco. Ok, penso di avere quello che fa per te, wiff. Giuliano, perché mi hai portato sott'acqua? Beh, l'hai detto tu che volevi una maggiore immersione, wiff? Siamo che più immersioni di così non si possa fare. Hai praticamente toccato il fondo, wiff. Hai toccato il fondo con queste battute. Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questa nuova mod review della domenica. Ragazzi, prima di cominciare vi devo fare un annuncio molto importante. In realtà è un reminder, perché ve l'ho già detto. Ma vi volevo ricordare che il prossimo video, vale a dire il video che uscirà domani alle 14, sarà un video speciale della serie di sopravvivenza, dove una porta è stata aperta e un segreto potrebbe essere svelato. Succederanno cose molto grandi e sarà il vero speciale 500.000 iscritti. Ho già fatto un video per il traguardo, ma questa volta sarà davvero il video speciale che voglio fare per ringraziarvi di tutte queste iscrizioni. Quindi ragazzi, dovete stare con l'hype e domani alle 14 vi voglio tutti qui sul canale. Detto ciò ragazzi, oggi andiamo a vedere una mod della categoria... Dovrei trovare un nome per questa categoria, tipo una sottorubrica, che a me piace molto. Le mod semplici, ma belle. Le mod sem... semplelle. O bellici. No, suona davvero di merda. Comunque, davanti a noi vediamo degli aggeggi che sono aggeggi vanilla, quindi direte, ma che mod è? C'è un alambicco, c'è una fornace, un enchanting table, un incudine, una crafting table e un beacol. Ma potete notare dalla fornace che c'è qualcosa di diverso, perché la mod di oggi si chiama Vanilla Immersion, ed è una mod che aggiunge spessore e immersività in alcuni oggetti, per ora questi sei, di Minecraft Vanilla, per l'appunto. Come lo fa l'esempio principe di questa cosa è la crafting table. La crafting table viene resa, come le altre cose che poi andremo a vedere man mano nel video, viene resa più tridimensionale e più realistica, e un po', diciamo, abbiamo una crafting table somigliante a quella della story mode, che è una cosa che io ho sempre detto mi sarebbe piaciuto vedere in Minecraft, e finalmente ci siamo. Quindi, per farvi capire di cosa sto parlando, direi che è opportuno prendere, per dire, dei blocchi di legno e un lingotto di ferro, e andiamo a craftarci uno scudo, per esempio. Tu normalmente, per craftare, clicchi la crafting table e si apre la GUI, ma come vedete, non succede niente, non si apre nulla, perché per fare il nostro scudo dobbiamo fare così. Prendiamo la crafting table, mettiamo i blocchi direttamente sopra, e intanto vedete che dà come risultato il blocco che ti dà il crafting. Se ne mettiamo uno, ci fa il bottone, ne mettiamo due, ci fa il bastone, perché è in verticale. In orizzontale ci dà invece la pressure plate. Se noi andiamo avanti e facciamo appunto così, ci dà lo scudo, ho sbagliato però il crafting, perché questo va tolto e questo va messo qua. Ci dà lo scudo, quindi andiamo a pestare su questa casella e ci dà il risultato del crafting, appunto uno scudo. Avete capito di cosa si tratta? È una figata assurda. Una crafting table vera e propria, tridimensionale, che funziona nel modo in cui dovrebbe funzionare. Niente GUI, poggi le cose sopra e per magia dal crafting ottieni l'oggetto. È davvero fighissima. Facciamo un'altra prova. Mettiamo tre blocchi di legno, non qui. Tra l'altro, vedete, col tasso destro metti, il tasso sinistro togli. È molto semplice. Potrebbe essere un problema quando vai ad accatastare i blocchi, però vedete che se tu li accatasti, si mettono più blocchi nello stesso punto. Il realismo ti toglie tutti i comandi veloci, tipo shift, click, vari, per ottenere stack di roba. Quindi c'è comunque un prezzo a quello che stiamo facendo. Però, andiamo avanti, mettiamo la cobblestone. Quindi uno, due, tre, quattro. Mettiamo la redstone e mettiamo il lingotto di ferro e otteniamo un pistone. Tra l'altro, avendo messo più blocchi di legno lì, come vedete, ne otteniamo altri. Se adesso andassi a fare così, possiamo craftarli tutti e ottenere uno per volta i bottoni. E quindi questo ragionamento viene applicato a tutti questi blocchi, che sono di norma utilizzati tramite delle GUI che si aprono. Quello che fa questa mod è togliere la GUI e rendere più realistico il blocco. A volte togliendo qualche funzione, tipo i tasti veloci, però comunque aumenta il realismo. E se si vuole cercare un'esperienza di gioco del genere, questa mod è un'assoluta figata. Ragazzi, lasciate un like se vi piace e in descrizione la potete trovare per il download per 1.12. Ma andiamo avanti. Il beacon. Come vedete, cerco di interagire col beacon, ma non funziona. Tra l'altro l'ho distrutto per sbaglio, quindi andiamo subito a rimetterlo. Non funziona perché va attivato. Vedete, non li abbiamo sacrificato, non li abbiamo donato dei minerali. Prendiamo dei diamanti e cerchiamo di interagire col diamante, quindi. Come vedete, quando mi avvicino col diamante, compare un altro simbolo. Il simbolo, in questo caso, che dovrebbe essere di speed. Se io metto con il tasso destro un diamante, come vedete, lo sto attivando e di contro mi dà la speed, per l'appunto. Mi ha dato l'effetto. Proviamo a dargli uno smeraldo, per esempio. Vediamo bene come funziona. Se io ti do uno smeraldo, mi attivi comunque il meccanismo di base? Al di là che qui abbiamo una funzione extra, perché puoi disattivare o attivare a scelta l'effetto, il che è una gran figata, ma poi addirittura, come vedete, quando tu clicchi, andare con la rotellina, io sto spostando la rotella e vado a selezionare altri poteri, tipo haste, per esempio. Mi piace questo, vado a selezionare questo. Quindi è una funzione sicuramente utile e bella per sostituire la gui. Certo è che è un po' più macchinoso da controllare, sicuramente. E vabbè, poi per il resto, per avere tutti i poteri, come sapete, il beacon va messo su più piani. Magari provo a fare al volo una piramide completa e vedere come funziona, visto che in realtà non l'ho fatto in questo caso. Quindi proviamo al volo, mentre questo è attivo, ha bisogno di disattivarlo, perché sennò mi sovrappongono le cose. Quindi andiamo a dargli il nostro smeraldo, se mi caca, perché mi sta cagando a quanto pare. Ok, entriamo in Edit Mode e possiamo, appunto, come vedete, selezionare più effetti, perché in questo caso la piramide del beacon è completa e quindi possiamo anche andare a attivare, per esempio, l'effetto di forza, che è uno dei più alti da sbloccare, se non erro. Ma andiamo avanti, vediamo, per esempio, l'incudine. L'incudine può essere usata, diciamo, gli si può interagire con tre attrezzi e viene, in questo caso, aggiunto un oggetto alla mod, che è forse l'unico oggetto aggiunto, vale a dire un hammer. Come si fa questo hammer? Bisogna prendere dei bastoncini, se non erro, ferro, e bisogna andare a craftarlo. Quindi dobbiamo fare uno, due, tre, e poi agli spigoli mettere due lingotti e otteniamo, appunto, il martello. Perfetto. E il martello va appoggiato qui. Poi si può prendere, per dire, un piccone consumato, in questo caso non è consumato, ma va bene, lo appoggiamo qui e dall'altra parte ci possiamo fondere un lingotto per ripararlo oppure possiamo, per dire, prendere efficienza. Mettiamo giù il libro. Tra l'altro, qui sotto è anche possibile digitare, vedete, interagendo qui, è possibile digitare il nome dell'oggetto. In questo caso ho scritto robe a caso. Ok, ragazzi, praticamente basta prendere il martello e pestare sui due oggetti per fonderli. Così funziona. Nel mentre, come vi ho fatto vedere, qui sotto c'era il nome. E il martello lasciato qui è solamente un modo per poggiarlo, a quanto pare. Non serve nella logica di crafting. Detto ciò, andiamo avanti perché abbiamo anche l'Enchanting Table. Quindi, l'Enchanting Table, come funziona? Prendiamo, per dire, una spada, prenderemo dei lapis lazuli, che non ricordo mai dove sono, in realtà dovrebbero essere qui, giusto? Ok, sì, infatti. E andiamo a sovrapporre le due cose. Quindi mettiamo la spada, come vedete, mettiamo i lapis necessari e iniziano a fluttuare attorno. È molto bella questa cosa. In teoria, premendo qui sul tasto, incantiamo la spada, che può essere, a questo punto, se la centriamo raccolta, perfetto, ho finito di fare il lavoro che dovevo fare, e otteniamo Sharpness 1, in questo caso. L'effetto, devo dire, è stato davvero fighissimo. L'animazione è ben fatta. Abbiamo poi anche la fornace. Nella fornace, come sappiamo tutti, è possibile cuocere il cibo, ma non solo quello. Nel nostro caso ci concentriamo sul cibo, che è la cosa più iconica della fornace. Quindi mettiamo che abbiamo una bella bistecca di mucca da cuocere. Prendiamo la nostra bistecca, prenderemo, ovviamente, come al solito, il carbone, e la bistecca che non ho preso, quindi prendi la mannaggia, andiamo a inserire nel forno la bistecca, in questo modo, la vedete lì dentro, e poi mettiamo anche il carbone sotto. Vedete, la fornace si è accesa, sta cuocendo la bistecca, che dopo il processo di cottura diventerà una bistecca cotta. Quindi non ci resta che aspettare un altro pochino, e viene automaticamente droppata la bistecca cotta. Infine, andiamo a provare anche l'alambicco. L'alambicco, come sapete, funziona in questo modo. Prendi una bottiglietta di vetro, la riempi d'acqua tenendo la water bottle, e di solito puoi utilizzare tre di queste bottiglie da mettere appunto nell'alambicco, che poi un ingrediente per volta distillerà le bottiglie con l'ingrediente, ottenendo la pozione o la base per la pozione. Quindi prendiamo la bliss powder, che è il carburante delle pozioni, degli alambicchi, per così dire, e prendiamo la verrucca del nether per fare una pozione di base. Andiamo a mettere quindi le tre bottiglie all'interno. In realtà me ne ha messo una sola, perché stavo cliccando sempre il solito slot. Vedete, ci sono proprio distintamente tre slot. Mettiamo l'ingrediente, e a questo punto mi chiedo solamente dove debba entrare la bliss powder, perché effettivamente dove deve entrare? Ok, sono riuscito a infilarla in qualche modo di lato. Come vedete sta facendo delle bollicine, il che significa che sta funzionando. La bliss powder l'ho inserita cliccando questa area, quindi dove viene messo l'ingrediente. Ok, appena finito, quindi raccogliendo la bottiglia, otteniamo per l'appunto un on-court potion. Perfetto, se adesso andiamo a prendere per dire un magma cream e andiamo a metterlo qui, l'alambicco è già attivo, distilla l'ennesimo ingrediente e otteniamo la pozione da resistenza del fuoco. Tra l'altro visualizzando la pozione già nell'alambicco stesso, il che è una novità più che gradita. Quindi ragazzi, questa è la mod della vanilla immersion. Come avete avuto modo di vedere, prende i blocchi funzionali di Minecraft, quelli con una GUI, e gli mette delle funzioni, diciamo fisiche, e modelli tridimensionali anche abbastanza fighi, per sostituire appunto questa GUI, appunto creando un'immersione, come dice il nome della mod stessa, maggiore rispetto all'esperienza di gioco vanilla. Quindi io spero che questa mod molto semplice, ma molto carina vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un like. Vi ripeto che domani alle 14 ci saranno speciali, quindi mi raccomando, siateci sul canale, e noi per il momento ci salutiamo, perché direi che è tutto. Quindi un saluto da Eren Blaze, ciao a tutti!